Sarà proprio al termine di una di queste azioni a largo respiro che scaturirà la rete della vittoria interista. Siamo al quarantesimo, Pasinato si impossessa del pallone, nessun Atalantino lo affronta con decisione e può raggiungere tranquillamente il fondocampo, rimettere al centro per la testa di Muraro che insacca in collaborazione con la traversa.